Le AI e le persone, gli esseri umani, sono degli alleati o sono in contrapposizione tra di loro, sono dei nemici? Direi che la risposta è abbastanza facile perché le AI è uno strumento a favore degli esseri umani, quindi è praticamente un alleato ed è un'ottima notizia. Quindi queste due cose non sono sostanzialmente nemiche, ma le AI in questo momento è a sostegno, a supporto e rafforza tutte le proposizioni che gli esseri umani, cioè gli individui e le persone, le metteranno in piedi sia dal punto di vista personale che dal punto di vista delle attività produttive. Quindi le AI deve essere visto come, no, qualcuno lo chiama co-pilot, qualcuno lo chiama superpowers, qualcun altro lo chiama come un team sempre a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per dare una mano, per facilitare, per semplificare e nel caso dei processi produttivi per migliorare il time to market, per poter essere più efficienti, per poter risparmiare del tempo in attività che sostanzialmente non portano a valore aggiunto e per riuscire a fare dei prodotti che sono sostanzialmente e nettamente migliori rispetto a quello che veniva fatto in passato, nonché conoscere meglio i clienti.